Ringrazio il presidente Spada per aver toccato dei temi così centrali per noi giovani quali l'innovazione e gli investimenti, la competitività e le competenze e aver toccato un punto a noi molto importante che è il DDL concorrenza. Innovazione ed investimenti perché? Perché nel 2023 in Italia abbiamo un risultato di solo 0,06 per cento riguardanti gli investimenti in venture capital rispetto a un dato assoluto a livello europeo dove Francia e Germania hanno investito sette e sei volte di più rispetto al mercato italiano. Competenze e competitività invece riguarda all'urgenza che le nostre piccole e medie imprese che rappresentano l'85 per cento del tessuto industriale necessitano di aumentare quelli che sono le competenze all'interno delle proprie aziende per poter essere competitivi non soltanto in ambito europeo ma soprattutto in ambito mondiale per poter competere con Cina e Stati Uniti. Per quanto invece riguarda il DDL concorrenza chiediamo come Assolombarda e come imprese di apportare dei cambiamenti rispetto alla normativa in quanto i 20.000 euro di capitale sociale e un dipendente che sono delle norme che obbligano le imprese a raggiungere questi standard del secondo anno di vita compromette il 70 per cento di tutte le start up iscritte nel registro delle imprese.